È inutile nascondere che l'Inghilterra è una squadra di altissimo livello e non per caso sono seconda nel ranking mondiale. Secondo me sarà una battaglia e sicuramente se sono dei giocatori infortunati i cambi saranno sicuramente allo stesso livello, quindi insomma chiunque sia infortunato sarà rimpiazzato bene. Beh, quando ho esordito io c'erano ancora i vari Castro, Gigi Garcia, insomma c'erano dei personaggi che adesso non ci sono più, ci sono tanti volti nuovi, sicuramente una nazionale ringiovanita, con tanto entusiasmo e voglia sicuramente di mettersi in mostra, infatti domenica sarà una grande sfida e una grande possibilità per tutti noi. Grazie